Proseguiamo con Spazio Eventi e parliamo di arte fotografica, fotografia di reportage dal viaggio al matrimonio. È stato l'oggetto infatti del workshop fotografico a cura di Edoardo Agretti, fotografo fiorentino noto a livello internazionale. Workshop che si è tenuto negli spazi di Palazzo D'Auria, secondo a Lucera. Il workshop, organizzato in collaborazione con Walter Diga, fotoautomatica e con il patrocinio del Comune di Lucera e della provincia di Foggia, ha approfondito molti aspetti legati alla fotografia di reportage. Partito dalla nascita della fotografia, la seconda parte del workshop si è incentrata invece sulla fotografia di Edoardo Agresti, sugli scatti legati alla sua visione del viaggio, del matrimonio, del documentare. L'obiettivo del workshop è stato quello di infondere una nuova forza creativa al proprio modo di scattare. C'era per noi la giornalista Elena Carlantuomo che ha intervistato Walter Diga tra gli organizzatori di questo workshop con le riprese di Gino Romice. Vediamo questa intervista. Ci troviamo nelle bellissime sale del Palazzo D'Auria II a Lucera in compagnia del giovane fotografo Walter Diga, questo è il suo pseudonimo, ma il vero nome per completezza è Walter Di Giovine Ardito, che ha organizzato una mostra davvero interessante in queste stanze, così un po' sembra di tornare indietro nel tempo, una mostra di Edoardo Agresti. Bene, Walter, se puoi spiegare ai nostri telespettatori in cosa è consistita l'organizzazione poi di questa mostra e chi è Edoardo Agresti? Allora, chi è Edoardo Agresti? Edoardo Agresti dal mio punto di vista e anche forse da quello che è la critica dei grandi testoni della fotografia è uno dei più grandi esponenti della fotografia di reportage. E' interessante per me, io lo seguo da prima ancora che la fotografia diventasse la mia professione, quindi ero ancora a Roma, oggi che è diventata la mia professione in quel di Lucera e mi occupo anche di matrimoni, Edoardo Agresti è un punto fermo, perché è uno dei pochi in Italia che batte tanto nel fare reportage di matrimonio, quello che è vero. E dato che oggi il reportage è qualcosa che tira, quindi senti dire reportage e tutti dicono ok. Io ho creduto opportuno di rappresentare il reportage fotografico con il nome di Edoardo Agresti, che realmente riesce a fare del reportage vero con la fotografia di matrimonio, per dire che questo si può fare. Hai invitato Edoardo Agresti, quali sono state le prime impressioni della serata che hai organizzato, nei minimi particolari e perché no, anche un'impressione su Lucera? La serata è riuscita molto bene, almeno ci ha dato quello che ci aspettavamo, la gente credo che è rimasta soddisfatta, l'ambiente è quello che è, perché il Palazzo d'Aurea II è una struttura notevole e come dicevi riportare un po' indietro nel tempo, un po' come sono anche le sue immagini, che non hanno tempo, forse anche per il suo tipo di bianco e nero. L'ho invitato perché io lo conoscevo, poi ho seguito un suo work in Toscana, ad Arezzo, a Foiano, e da lì io feci la proposta di portare qui lui per fare un work. Da lì è nata l'idea perché c'erano dei bei lavori e quindi si poteva fare anche una mostra. E quindi, perché no, creare un progetto vero e proprio di tre giornate all'insegna della fotografia, creando una mostra fotografica con tanto di evento, perché c'è stata grazia di Leuce che ci ha accompagnato sia su e poi giù con la sua musica, chitarra e fisarmonica. Qui era allestito con i fiori di campo che hanno reso tutto più bello. Nei giorni a seguire, il sabato e la domenica, si è tenuto il work nella cantina giù del palazzo, con dieci ragazzi, tenuto sempre dal grande maestro Edoardo. E di Lucera cosa ha detto a Gresti? Beh, Lucera è piaciuta. Peccato che non sono riuscito a farla visitare più di tanto, perché alle ore 18 noi finivamo il work e alle 18 mancava il sole e alcuni monumenti non sono illuminati. Quindi lunedì successivo, prima della partenza, ho fatto fare un giro giusto per vedere il castello, ma ha visto un po' il centro, non è riuscito, però ci auguriamo e mi ha promesso che ritornerà e mi auguro anche per dei nuovi progetti insieme. La mostra fino a quando può essere visitata? Fino a venerdì, dalle ore 21 alle ore 23, quindi partendo da questa sera fino a venerdì sera. Venerdì 21 marzo? Sì, esatto, 21 marzo. Ci sarò sempre io qui per accompagnare anche tutti i visitatori. Si tratta di 40 scatti e come dicevi prima, tutti in bianco e nero. Perché Walter? Perché lui oggi, come credo un po' tutti, è cambiato nel modo di pensare lo scatto e la fotografia. Partendo da una fotografia a colori, un po' rappresentava Steve McCurry, che con lui ci ha lavorato, quindi ha seguito tanto. Oggi come oggi hai cambiato lo spirito probabilmente del fotografo e quindi in questo caso lui rivede il mondo in bianco e nero, quindi lo rappresenta in questa maniera. I progetti futuri di Walter Diga? Io ho progetti, mi auguro innanzitutto di continuare e di crescere tantissimo con la fotografia, con la fotografia di reportage, non solo perché mi piace la fotografia a 360 gradi e come dicevo a Edoardo Agresti mi piace anche quello che non è la fotografia. Mi auguro prossimamente di creare un altro evento con la fotografia o con qualcos'altro, sempre per cercare di fare qualcosa per Lucera, con Lucera, che sia arte e cultura, che sia un momento di aggregazione sociale fatta bene, fatta con amore, con il cuore, con amicizia, con tutto quello che serve al paese per crescere tutti insieme. Davvero complimenti. Grazie.